Bene ragazzi, qui Dido e ci fatti con Outlast e quindi ragazzi, nella scorsa parte siamo stati catturati dal dottor Trager, Trager come cazzo... No, Vernike, no, questo qua è Trager mi sembra, come cazzo si chiama, comunque non è importante e ora credo che dobbiamo fuggire Chi è? Chi è? Chi è che sta parlando? Ok ragazzi, io questo pezzo mi ricordo solamente che era difficile, ma non mi ricordo cosa, oh mio dio, cosa accade Salve! Allora, il suo capezzolo è anomalo Ha un capezzolo anomalo, eh È fin troppo vivo Eh, vedete, sì, ok, lui è una vittima di Vernike Sei sexy come pochi, comunque anche te, eh Oh, fa... ok, va, ok, non c'è bisogno di gridare però, lo sento, no, non ho le dita Non è che non ho le orecchie Smettila di urlare Quell'uomo incredibile è convinto che mi manchino le orecchie, non le dita Non so qua... non so quanto ne sia felice... ecco, fantastico, esatto Bene Tanto il mio dito è lunghissimo, il mio dito medio si è buggato, è lunghissimo, guardalo È lunghissimo, ah no, sembra lunghissimo perché ho l'indice tagliato, è vero, sembra Cosa fa? Non mi ha visto, non mi ha visto, vero? Ok, cerchiamo di andarcene Sì, ma di qua non ci sono porte No, mi sa che mi ha visto C'è un'ombra lì, ragazzi, c'è un'ombra lì, ho sbaglio Ok Ok, piano, ragazzi, piano, cerchiamo di essere coraggiosi Cerchiamo di essere... No, sono un pettirosso, sono... oh fuck my life Sono un pettirosso, sono un pettirosso, sono un pettirosso, sono un pettirosso Salve Cosa? Cosa fa? Che... oh mio dio, sì, devo, devo vederlo Oh, grazie gioco, grazie Se ne vada però, se ne vada, veloce, veloce Io ragazzi me la correrei troppo, cioè sarebbe troppo divertente Facciamolo, fanculo, facciamolo YOLO Ok, si corre, si corre, si corre No, ma non di nuovo qua, ok, va bene Va bene Aspettalo, ok Ah, sepegna, babarishi, babà Chiudi Ahah, sei fottuto adesso Ok, si corre, si corre, no Ok, devo correre, mi devo ricordare Fuori, poi a sinistra Ok, c'è una botola, c'è una botola, c'è una botola Ok, è stato molto più semplice di quanto ricordassi, ragazzi Ma molto di più Bene, bene, bene Ok, io mi ricordavo che quel pezzo era tipo un casino Invece è andato abbastanza bene Allora, so che lui potrebbe entrare in questo modo Però Anche io potrei fuggire in questo modo Quindi ti direi di aprirla questa Anche perché lì c'è l'ascensore Immagino che non si possa usare adesso, vero? Ah, vedete, ci vuole la chiave, ok Basta che lui non sia qua intorno Però perché mi sta venendo caga Ok Madonna ragazzi, questo gioco è la pesantezza comunque Cioè, è davvero massacrante Pile! Che poi è una batteria, vabbè, è uguale Lui non sta arrivando, vero? Mamma mia quanto è pesante però Quanto però ragazzi Qua Siamo di nuovo qua? Ah no, siamo Ma lui qua c'è, io non mi ricordo Cos'è questo busto? Lui qua c'è Oh my god Ok Cosa stronzo? Stai zitto che mi ha sentito Puttana maiala Maremma maiala Ci vuole la chiave, la chiave, la chiave, la chiave Dov'è la chiave? Dov'è la chiave? Oh! Sei zitta! La chiave? Ti prego, veloce Ok, chiudi Ok, fanculo Mi sa che sta arrivando Ho paura Ho tanta paura ragazzi Ho tanta paura No, è seriamente Io ho tanta paura Sì però No, è lì Di qua ce n'è posti? No Ok, lui è qua Dove cazzo è? Dov'è? Oh mio dio è lì No, no, no Ok, mi devo mettere sotto un letto Va bene, ce l'ho fatta Ce l'ho Ok Con calma ce la stiamo facendo ragazzi Con calma e sangue freddo Oh mio dio Sto sudando Cosa? Chi è che parla? Mi scusi Mi scusi Vediamo se ho una nuova nota No Se ne vada Non la vuole nessuno A nessuno sta simpatico Ok, se ne è andato In teoria se ne è andato ragazzi Eh, se no Una puttana Ok, se ne è andato Shhh Piano Ma allora Noi siamo arrivati dall'albero Vero? Quindi io Minchia Io devo andare dove è andato lui però Mio Oh Oh No Non mi hai visto Non mi hai visto Dove Dove cazzo era? Scusate Dove cazzo era? Non mi può aver visto Dov'è? Ma non mi può aver visto Intanto sto facendo un rave party qua Con la mia fotocamera Ma quell'uomo incredibile dov'è? Mi scusi Ah è qui È qui È qui È qui È qui Sì ma che tempismo Eh vabbè anch'io però che lo inquadro lì Madonna 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 Andiamocene Cosa? Perché i rumori molesti? Ma lui dov'è? Lui dov'è? Ah è là in fondo Aspetta vai Continua Ti prego Continua ad andare Vatten Eh Ma non puoi avermi visto Che cazzo è un falco Quell'uomo È un falco ragazzi Che poi non so dov'è Cioè non so dove devo andare Mi serve la chiave Ma non ce l'ho Ora dovrebbe spuntare di lì in teoria Forse è tornato indietro Meno male che esiste Eh vaffanculo però Madonna Che tempismo Meno male che esistono le ombre Ok La tattica è farlo andare avanti Inquadragli il culo E poi andargli dietro Burocrati del ca Oh mio dico Era ancora lì Anzi Sembra blimp Cioè è assurdo però È impossibile Ora Ora se mi sgama Corro Non me ne fotte una sega È lì Se ne vada Ok Sono abbassato In teoria Non 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 mi dovrebbe sentire Perché non sto facendo rumore Immagino Che Occorra aprire anche sta porta però Spingi Ti prego Spingi Veloce Se lui mi sente Sono fottuto Ah Mi ha sentito Sono fottuto Mi ha sentito Sono fottuto Salve com'è Ok vado di qua Vado di qua Ok perfetto Un posto grandioso Per nascondersi Non mi ha visto Vero Aiuto Dov'è Madonna Che gioco Che gioco Pesante Mamma mia Dov'è Chi è Lei Chi è Ok è lì C'è fatto Ah ma è entrato Nella porta Vattene Ti prego Vattene Sì Vattene Esattamente Madonna Che brutto Che brutto Che brutto Io devo anche potere Uscire Uscire però Di qua Giovini Ok dovrebbe Dovrebbe essersene Andato Fanculo Alla mia vita No 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 Non no 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 Fanculo a te Altro che Ok va bene Va bene farò il bravo Farò C'era una botola qua C'era una botola Salta Salta Oh mio dio Sucamelo 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 tantissimo Mamma mia Con le tue belle gengive Senza denti Un pompino da 10 Senza denti E' fatto bene Dove? No ma non buttarti così Dove siamo adesso però Perché io non sono nello specchio Sono un vampiro Ma dove siamo? Non capisco Siamo di nuovo qua Cos'è sta roba? Salve No La chiave Ok Cosa? Cosa? Dov'è? No 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 Non ho ben capito dov'è Non ho ben capito dov'è Non ho ben capito Aiuto Ok Facciamo che corro Facciamo che corro Facciamo che lo attiro qua E poi corro Venga 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 Sono qui eh Venga Perché è così lento? Non sa cosa fare Si corre Si corre Si corre Non corre più Ok Vai corri Vai 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 L'ascensore Dov'è? Di qua L'ascensore Dov'è? La freccia Sinistra 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 Ok Eccolo Oh mio dio Oh mio dio Schiaccia Dov'è? Schiaccia Schiaccia Ti prego Ti prego Veloce Muove Oh Oh ok Credo che questo ragazzi Da quello che mi ricordo Era il pezzo Oh mio dio Era il pezzo No Vai via Please Oh mio dio Ok Ok Credo che questo Da quello che mi ricordo Fosse il pezzo peggiore Di Outlast In generale Secondo me Secondo me Perché è davvero Pesante Ma pesante Pesante Cioè Era tutto un fottuto Fuggire 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 Ed era pesantissimo Ok Va bene Direi che Siamo salvi Ok Andremo avanti Con l'esplorazione Di questo fottuto posto Andiamo giù Nella prossima parte ragazzi Quindi Ok Sì Forse dovevo davvero andare giù Quindi lasciate un bel mi piace Un commento Diventate fanno solo campesi E questo è un bello ragazzi Ciao